Allora, qual'è il problema? Dov'è il problema, giovalotto? Penso che chiudiamo due ore prima la ferrava Perché c'è uno che mi fa girare il calcio Abbiamo vissuto dieci ore di musica fino a questo momento in armonia e santa pace Poi arriva una testa di cazzo, che poi è un nostro anche collega, e rompe i coglioni il console Il nome non lo faccio, ve la scoggerete da soli After Hour, il console fino alle dieci c'è Mario 10 Grazie mille Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' la gelosia che fa fare i pazzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.